Simone Oliva e Lucia Marino leccono Versi per versi di Roald Dahl Cenerentola, e la sposò e le visse contenta. Eh no, la vera storia è più cruenta in quella falsa, quella raccontata, quando, molti anni fa, fu inventata, aggiunsero carezze e zuccherini per far contenti bambine e bambini. Invece ascolta, è giusta fino a quando le orribili sorelle stanno andando al gran ballo del principe invitate, di notte tutte quante ingiugliellate, e intanto Cenerentola, tapina, è chiuso giù nell'umida cantina, dove i topacci, in cerca di bocconi, le stanno già assaggiando i talloni. E lei strillava, Voglio uscire di qui! Finché la fata magica la udì, e allora apparvi una luce chiara, dicendo, Tutto bene, bimba cara? Ma come tutto bene? Strillò quella. Ma se mi sta marcendo le budella? E poi, dando gran pugni contro il muro, «Portami al ballo!» Disse in modo duro. «Portami in discoteca, là, al palazzo, o io quaccio uno sconquasso pazzo! Voglio un vestito, voglio un ricco cocchio, voglio gioielli che valgono un occhio!» E poi, calze di nylon, quelle fini, scarpe d'argento con i tacchettini. «Vedrai se, ben vestita, sopra e sotto, non ti cucino il principe ben cotto!» Disse la buona fata. «Cara, aspetta!» E diede un forte colpo di bacchetta, e subito, vestita d'eleganza, si trova Cenerentola alla danza. Le sorellastre, quando l'ha venuta, fra le braccia del principe perduta, che lo tiene e lo stringe molto forte, diventano di rabbia bianche e smorte. E il principe intanto si scioglieva, e quasi quasi in essa si cadeva. A mezzanotte lei dice, affannata, «Se non me ne vado, son fregata!» E il principe gridava, «Oh no! Ahimè!» e per la veste la teneva a sé. Lei, tentando di andarsene, tirò, e il bel vestito tutto si strappò. Così, mostrando la sua biancheria, per i saloni se ne scappa via, e per le scale perse una scarpetta. E il principe arrivò come saetta, e strinse al cuore quella calzatura, dicendo, «Ecco, questa è la misura! Solo chi calzerà questa scarpetta sarà domani mia sposa diletta! In ogni casa del mio regno andrà, fin quando il piede giusto troverà!» E l'appoggia, con trascurata mossa, sopra una cassa di cervoggia russa. Subito, una delle due sorelle, quelle con la verruche sulla pelle, prese la scarpa e con la mano destra la fece volare via dalla finestra. Poi, delicatamente, in quella sede, mise una scarpa che le vuota al piede. «Ai, ai! Qui le faccelle si fa dura! C'è l'orentola, avrà malaventura!» Il giorno dopo, il principe va, bussa le porte in tutta la città. «E in ogni casa è pronta una ragazza, col piede alzato e la speranza pazza!» Ma quella scarpa è così lunga e grossa che ingoglia piedi come una fossa. E poi ne esce e puzza disgraziata dovuta al piede di chi l'ha calzata. «E mille, mille piedi!» fanno la prova, ma il piede giusto proprio non si trova. Ed ecco arriva, ferrucosa e truce, la brutta sola erlastra e introduce e le calza a pennello. Urla dall'or, urla d'orrore il principe ed è preso da malore. Lei dice «Bello mio, ora mi sposi!» Con pali di lamenti bisbigliosi lui tenta. «Vado via! Scusi! Permesso?» «No! Hai giurato, principe! Hai promesso!» «Un principe non può perder l'onore!» «Tagliate via la testa a questo orrore!» Il principe ordinò e così fatto e ve li disse molto soddisfatto. «La trovo più carina!» senza testa, ma ecco l'altra strega che protesta. «Aora la provo io!» «No! Prova questa!» il principe le dice. «E...» «Zac!» di volo e taglia il capo con un colpo solo e la testa va in giro rotolando. Intanto le patate sta pelando Cenerentola. Giù nella cucina sente quei colpi. Sale, si avvicina e... «Che baccane è questo!» dice poi. «È il principe!» «Tu fatti i fatti tuoi!» Guardando intorno pensa la ragazza. «Che principe è mai questo!» «Di che razza che taglia testa per divertimento!» «Sposarlo?» «No! Proprio non me la sento!» e il principe «Chi è questo pezzente?» «Via la sua testa!» «Immediatamente!» Ma proprio allora di un chiaro lampo la buona fata magica entrò in campo. Agitò la bacchetta in tono serio disse «Su cara! Esprimi un desiderio! Qualunque desiderio e sarà fatto!» Cenerentola disse in tono piatto «Fata gentile! Sarò più prudente! Non voglio principi o simile gente! No! Non qualcuno straricco o strapotente! Vorrei un uomo semplice e decente! Non ce n'è molti, sì! Questo lo so! Fata! Tu pensi che ne troverò?» Ed ecco Cenerentola di volo divenne sposa di un bel boscaiolo specializzato anche in confetture di quelle fatte in casa buone e pure. E allora sì che furono felici pieni di gioia figli e allegri amici. di un bel boscaiolo 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 di un bel boscaiolo